Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida di infliggere danni entro 10 secondi dall'atterraggio dal mulinello all'idro 16. Praticamente l'idro 16 è questa qui, dove c'è il ponte, e il mulinello potete vederlo da voi nella mappa. L'idro 16 in pratica non esiste più perché è stato letteralmente inondato, però il ponte è riconoscibile, quindi diciamo è una zona che se avete giocato la stagione precedente riconoscerete sicuramente. Quello che dovete fare, e potete farlo in qualsiasi modalità, è quello di procurarvi prima di tutto un'arma, una qualsiasi arma, dopodiché entrare nel mulinello e quando vi spinge verso l'alto potete usare il deltaplano per raggiungere la terraferma. Al momento in cui toccate la terraferma avete 10 secondi per fare danno. Se non ci riuscite potete ripetere tranquillamente la sfida senza dover riavviare la partita, quindi procuratevi una qualsiasi arma, io ci sono riuscito la prima volta, mi è andata piuttosto bene, non so se ci riuscirò in questo video ma comunque vi spiego come fare. Quindi atterrate qui, vi procurate un'arma e vi recate nel mulinello che trovate qui come vi ho mostrato. Una volta che vi recate qui praticamente vi spara verso l'alto, voi attivate il deltaplano e osservate attentamente la zona. Se vedete che c'è qualche giocatore, io l'ho trovato qui, voi atterrate con il deltaplano e sparate, non dovete eliminarlo per forza, vi basterà fare danno. In questo modo qua completerete la sfida, ora non c'è nessun giocatore ovviamente ma io l'ho completata in questo modo, quindi potete rimanere sospesi lì tutto il tempo che volete, rientrate in acqua fino a quando non trovate un giocatore avversario e quindi poi lo raggiungete e gli sparate. Ok. Ok.